Esordio amaro in Serie A per Lafeldi e Eboli. I rosso-blu cadono in casa del Milano per 3-1. Hanno pesato nell'economia della gara le assenze e gli episodi sfortunati nei momenti cruciali. Il match parte a ritmi blandi, poi il gol della Feldi, il presidente Domenico, con Pedotti che concretizza su schema da calcio d'angolo. Pari dei padroni di casa, a inizio ripresa con Riete Diurio. Lafeldi prova a vincere la gara, ma proprio nel momento migliore è capitano esposito del Milano a ribaltare la gara col 2-1. Terzo marcatore che chiude il match ancora del Milano con Peverini. Da oggi mister Ronconi è già al lavoro per il prossimo turno. Prima uscita casalinga contro il Pescara, l'uomo di 2 ottobre alle ore 21 al Palladisseu.